Buonasera, sono alla libreria Feltrinelli di Catania. Fra breve ci sarà la presentazione del libro di Gaetano Savatteri, La fabbrica delle stelle. Insieme a lui il collega Nicola Savoca e ci saranno delle letture dell'attrice catanese Valeria Contadino. Chiederemo a lui delle domande proprio sul libro. A dopo. Sono con il giornalista Nicola Savoca che accompagnerà la presentazione del libro insieme a Gaetano Savatteri e la lettura di Valeria Contadino. Perché è importante oggi leggere? Leggere è importante, così come è importante ascoltare e sentire della buona musica perché rischi, ma è un rischio piacevole, di imbatterti in un bel libro come quello di Gaetano Savatteri che tiene a battesimo una sorta di nuovo filone, quello del giallo non di introspezione ma con il giallo che sa ironizzare e tira fuori dei personaggi che sono davvero strepitosi. Personaggi che a mio modesto avviso, parlo del protagonista di La fabbrica delle stelle di Savatteri, cioè Savero Lamanne e anche il suo compagno, il coprotagonista Beppe Piccionello, meritano quasi quasi di essere serializzati, quindi di essere approfonditi dal punto di vista psicologico dell'autore. Da giornalista giornalista, secondo te è Savero Lamanne il suo alter ego? Ma sai, non so dirti, c'è molto disincanto. In alcuni passaggi il giornalista del romanzo dice, ma giornalisti gente inutile, e quindi ci va duro giù pesante. Sì, in qualche modo credo che sia l'alter ego di Savatteri. E con le citazioni, con il riferimento, col bagaglio culturale che viene fuori dal protagonista del romanzo, insomma si ha quasi la certezza. Però è un professionista ormai maturo che ha capito il gioco, la panna montata di quella che è la vita del mondo del cinema e soprattutto del giornalismo raccontato. E quindi guarda con ironia e con disincanto a quello che già conosce bene.